Allora, qui tra le mani ho sgraffignato una copia del numero di Setteva dello scorso mese, ma ormai siamo vicini all'uscita del nuovo numero. Con me, Shiko Catenacci, abbiamo qui con noi Morena, che è della redazione, una delle tante ragazze sospettate di essere 7, ho imparato bene questo linguaggio. Sì, ormai è un miagolese perfetto. Un miagolese perfetto, un po' incomprensibile per i più che chiaramente ci seguono, ma G-Style anche si lega al marchio di Setteva da un po' di tempo. Cosa c'è di nuovo, di bello da preannunciare per il prossimo numero? Al momento di andare in onda, questo è ancora per pochi attimi, il numero è effettivamente in corso. Ormai alle stampe, è prossima distribuzione, forse mentre parliamo già avete possibilità di accarezzare il miso, per continuare sulla falsariga, quindi di sfogliare le pagine che sono anche questa volta quasi 200. Le novità sono due super copertine, come sempre, ma tante altre copertine importanti che rappresentano e vanno in cima ai nostri 26 argomenti, che sono diventati 28. 28, quindi allo sport, al cinema, alla moda, a motori, di tutto. Senti Morena, abbiamo parlato di tante cose, ma intanto specifichiamo meglio che cos'è questo Setteva 2Five, la possibilità di andare in copertina proprio su Setteva. Sì, ci sono delle copertine votabili, quindi c'è chiunque può richiedere di fare la copertina direttamente dal sito e si possono votare ogni ora e non solo si possono votare da soli, ma possono farsi votare anche dai loro amici. Sfruttando quelli che sono i classici veicoli dei social network. Per concludere questo nostro incontro insieme a Scico, cosa aggiungiamo per dare un input ai nostri amici, per seguire sempre è meglio i Setteva. Una chicca, mentre non abbiamo in questa puntata già il numero in corso, Morena ha preso, perché sai che noi siamo anche trafici e stampatori, oltre che editori. Allora, una novità di cui... Sono anche protagonista, però... Protagonista, giusto così. Un radio tube insieme a Franco, che salutiamo. Esatto, con Franco Dami, questa diavoleria. Per una volta siamo noi, intervistare te. Esatto, ma lo spieghiamo in due parole, semplicemente una sorta di radio inventata, Radio Live, che facciamo nei locali, quindi che ci ospiteranno e avremo modo di dialogare col pubblico, fare proprio una radio dal vivo con i video 70-80. Ma poi la chicca è più divertente, più hilarante, credo che sia quello che sia... Torno a fare una cosa che mi ha fatto cominciare, lo scherzo telefonico. Più quelli sulla serata, puoi darti il numeretto di qualcuno che vuole colpire e voi improvvisate. E non solo, poi artisti, si creano delle gemme tra artisti rapper, imitatori, possono partecipare tutti, quindi insomma è una cosa nuova. Un gran calderone a cui Settevali dedica naturalmente... E ringrazio per questo anche Shiko.